C'è una emergenza al centrocampo in vista della partita di Lucca che per tradizione non è mai stata facile. Per l'Arezzo lo dice la storia delle partite con la formazione rossonera. Non è un caso che al Porta Elisa la vittoria manchi dal 2018, anche se spesso la X è stata il risultato che ha caratterizzato maggiormente gli incontri ravvicinati contro i rossoneri. Dopo l'astensione con la Juventus, che non ha impedito all'Arezzo di portare in bilancio il migliore incasso di questo girone di ritorno, la Francia caliente del tifo Amaranto si prepara per la trasferta di Lucca. Mille biglietti in dotazione dei sostenitori dell'Arezzo. Si prevede che lunedì sera sia nutrita la rappresentanza al Porta Elisa del tifo Amaranto. Ma veniamo alle note dolenti, se lecito definirle così. Indiani dovrà fare meno dello squalificato Mavuli e la sua assenza non è da poco, visto che in quel 4-2-3-1 sposato dal tecnico la presenza del ganese è fondamentale. Nel conto ci mettiamo gli infortunati Bianchi e Foglia che accusano problemi simili. Se non è una emergenza centrocampo poco ci manca, scelte dunque obbligate. Non è da scludere un rilancio di Settembrini che potrebbe contendere uno dei posti in mezzo a Catenese. Di più ne sapremo nelle prossime ore. Nota curiosa, il 4-2-3-1 è stato codificato proprio nella partita di andata. E se Indiani ne inventasse un'altra?